ore 9 del mattino alto adige caldaro sulla strada del vino accompagnati da un sole radioso iniziamo il nostro viaggio verso il passo della mendola uno dei più importanti valichi di montagna dell'euregio che collega l'oltradige e la bassa tesina con la val di non in trentino io vi do un caloroso benvenuto alla stazione della funicolare storica che porta da san antonio caldaro sul passo della mendola e così incominciamo insieme un brevissimo viaggio sul passo la funicolare della mendola che parte dalla frazione di sant'antonio di caldaro fu inaugurata nel 1903 ed era all'epoca la funicolare più ripida dell'europa continentale e con il tracciato più lungo al mondo la struttura pur vantando una lunga storia e sempre all'altezza del suo compito ha avuto l'onore di trasportare passeggeri illustri tra i quali nel 1905 l'imperatore francesco giuseppe attualmente la funicolare della mendola supera in soli 12 minuti un dislivello di 854 metri e rimane ancora oggi una delle funicolari più ripide dell'euregio la funicolare della mendola è un mezzo di trasporto molto molto amato sin dall'inizio dalla sua costruzione nel lontano 1903 funicolare è stata costruita per motivi turistici perché allora la mendola era un centro di cura nella monarchia austro-ungarica nell'anno scorso ben oltre 220 mila persone sono state trasportate il culmine sempre nel mese di agosto fino a 2000 al giorno è una struttura amata di tanti turisti e di noi caldaresi e sottirolesi suggestivo non è solo salire con la funicolare ma anche arrivare al passo della mendola un paradiso per escursionisti e ciclisti un luogo che affascina per l'incantevole panorama e soprattutto per la sua storia illustre verso la fine del 19esimo secolo era una delle più rinomate e ambite località turistiche delle alpi già luogo di soggiorno degli asburgo innanzitutto era importante la costruzione della strada della mendola nel 1885 a quell'epoca qui c'era l'impero austro-ungarico con francesco giuseppe e questa strada è stata veramente costruita solo ai fini militari però dopo un anno dopo nel 1886 la mendola fu già luogo d'incontro di tutta la nobiltà europea questo tutto questo periodo aureo fu interrotto dalla prima guerra mondiale anche tra la gente del posto era radicata l'usanza di trascorrere la cosiddetta villeggiatura contadina alla mendola durante i caldi mesi estivi portandosi dietro tutto il bestiame per far ritorno in valle solo a settembre oggi i contadini vanno sulla mendola per avere un po di fresco d'estate solo per pochi giorni perché hanno di là a caldaro agriturismo e possono andare su solo per sabato domenica anni fa i contadini vanno sulla mendola per fare il fino avevano sui terreni di foraggio e facevano quel lavoro dopo che hanno fatto tutto il lavoro nei campi di la caldaro l'alternativa alla funicolare è la strada statale numero 42 che salendo serpeggiante con i suoi 15 stretti tornanti collega l'alto adige al trentino e regala ai viaggiatori una vista mozzafiato sulla valle dell'adige e giunti al passo una sensazione di infinito molte storie e aneddoti potrebbero raccontare il passo della mendola un luogo di collegamento ed incontro che avvolto da uno scenario naturale senza uguali penetra nel cuore dei suoi frequentatori conquistandoli con il suo magico fascino il nostro breve viaggio con lo funicolare della mendola è già terminato grazie che eravate con noi un viaggio nel passato nella storia ma anche verso il futuro se vi è piaciuto tornate a presto statemi bene e auguri grazie a tutti